La domenica non è soltanto un giorno, una giornata di relax e di distensione, ma può essere anche una giornata di riflessione. E se io fossi un investitore, oggi come oggi, riflettendo, lo sapete a che cosa penserei? Su che cosa penserei di investire? Se direte faccio un discorso prodomomea, e invece non è tanto prodomomea, è un discorso che ha un suo fondamento. Io investirei sull'editoria, investirei sull'editoria digitale e investirei su chi, su questa editoria digitale, ha già individuato potenzialità, potenzialità enormi da un punto di vista globale. Naturalmente per sviluppare le potenzialità dell'editoria digitale ci vuole qualche mente pensante, ci vuole qualcuno che abbia una visione di prodotti che potrebbero sfondare sul mercato e fare business. Riflettete, se siete degli investitori, riflettete un attimo. Investire in borsa, sì, d'accordo, va benissimo. Investire in un nuovo ed ennesimo appartamento, sì, può andare ancora bene, ma investire sulla editoria digitale e quindi sul futuro, forse potrebbe andare molto, ma molto meglio. Innanzimo appartamento,